No, ieri ho fatto questo comunicato in cui riaffermavo dei principi che sono per noi importanti e mi ha fatto piacere che entrambi erano sottoscritto, io non li ho neanche parlato con loro, non li ho neanche sentiti, non è che ho fatto nessun tipo di intervento, morassuasion o altro, ho comunicato quello che penso al posto giusto e però ho visto che immediatamente dopo entrambi erano totalmente d'accordo, quindi sono molto contento di questo. Possiamo dire che la crisi è rientrata? Sì, ma direbbero di sì, anzi, ripeto, ho visto da parte loro un'adesione immediata per questo scritto e quindi mi fa vicino. E' questo, è questo. Benvenuto Presidente, grazie. Grazie a tutti. Allora Presidente, la Costituzione siamo noi, ci siamo dati un futuro.